Ciao ragazzi e ragazze, buongiornissimo e bentornati nel bar basso, bentornati nel bar basso e nel bar basso di oggi la preview della partita di stasera. Stasera c'è Verona Inter, da Vicentina è una partita che io sento infinitamente tanto, vi devo dire la verità, che ritengo essere una partita che racconterà molto di noi. Purtroppo, e vi dico purtroppo, io sono molto fiduciosa per questa partita e questa cosa, devo dirvi la verità, un po' mi spaventa. Sono fiduciosa perché ho visto l'Inter in questi giorni, ho visto l'Inter in questa partita, ho visto l'Inter in queste settimane e quindi ovviamente sono fiduciosa. Però preferirei non esserlo, vi dico la sincera verità. Detto questo, l'Inter di stasera che andrà con un minimo di turnover anche il povero, ma povero perché a noi non piace molto, Gagliardini, poveri noi, che tra l'altro diceva qualcuno, non mi ricordo chi, in uno dei canali che seguo, giornalisti sto parlando, non a caso, che è l'unico veramente scontento dell'utilizzo che il mister fa di lui e questo dovrebbe dirci veramente tanto di uno spogliatoio e soprattutto di un uomo come Gagliardini. Ma su questo magari rifletteremo un'altra volta. La partita di oggi è fondamentale, da Vicentina per cacciare il Verona ancora più giù, ma soprattutto per arrivare a, come dire, recepire altri tre punti che sarebbero fondamentali sulla corsa al quarto posto, ma anche in realtà per il morale. Io mi rendo anche conto che sia difficile focalizzarsi sulle partite del campionato quando c'è un obiettivo così grande davanti, eppure questo è il loro lavoro e credo che le alie dell'entusiasmo siano difficili da fermare e dire, ah, questo sì, l'altro no. Quindi io ho fiducia nei ragazzi, domani poi ci sentiamo per il post partita e vediamo se questa fiducia è stata ripagata. Per il resto io ho messo carne e secchi titolari invece di consigli. Stop whining.